Prego Ma si può sapere come inchiaia è lei? Parlami di Carmelo Zappolla Procuratore Presente E che cosa è venuto a darmi? La buonanotte Pasqualella Fai mano allo spiritoso Carmelo Zappolla è stato addestrato Mi spieghi perché Mi pare che non è così che funziona Che va a fare? Giochiamo! Avanti procuratore Faccio benissimo com'è che funziona E io no Per quanto sia me lo spieghi? Lei mi dona qualcosa a mia E io ti do qualcosa a lei E qua ti sbagli Sei tu che devi dare qualcosa a me Altrimenti tu hai carinza Non esce più No Non è così che deve andare procuratore Allora parliamo la stessa lingua Che ne capiamo meglio Carmelo Zappolla E' un assassino Chi sto fatto? Mi senti Pasqualella? Chi sto fatto? Sì 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 E chi sto fatto? Oh Benissimo Adesso però tocca a lei procuratore Cosa posso fare per lei? Voglio che lei mi fa nascere Di sta minchia di galera Al più presto possibile E poi ci voglio una cella Tutta da solo Con la televisione La televisione la fa colore Vuoi un po' di fagobate Senti capo Se non lo sbaglio Tu sei in cella Che mafioso Giusto? Che significa? Che sto con la famiglia Lo sai che cosa faccio io? E' un omaggio Io ti faccio scrivere Sulla pelle Che tu sono pentito E ti metto una cella Che mafioso E questo è quello che io ho fatto Procuratore Lei non hai detto Carmelo Zappulla Ti ho detto Carmelo Zappulla E allora? Io ho bisogno di garanzie Di certezza Procuratore Abbiamo capito Pasqualella Buona permanenza Eee Agente Aspettate Procuratore Che c'è? Si sieda Per favore Per favore Per favore Per favore